E il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha il coraggio di dire che sta seminando la rinascita anche a Taranto Vecchia. Ma è il nuovo pidocchio della politica. Ci troviamo nella città vecchia di Taranto, arco vigilante, proprio a pochi metri da Via Duomo. Guardate, un'area che è completamente abbandonata. Ma questo è niente. Vi faremo vedere tra qualche secondo lo scempio. E ci troviamo, dico, ci troviamo alle spalle di Palazzo Carducci. Un altro schiaffo alla storia e alla civiltà. Ho superato, dopo qualche metro, l'arco vigilante e mi avvio. Dinanzi a questa situazione mostruosa ho al mio fianco l'amico, il signore che abita qui. Qui, piano terro, di Giorgio Andrea. Di Giorgio Andrea. E che con sforzi personali, con mezzi propri, ha cercato nel suo piccolo di rendere, come dire, dignitosa la zona. Ma dinanzi a questa mostruosità non c'è niente da dire. Questa è la vergogna delle vergogne. Questa è la Taranto di Rinaldo Melucci. Una città purtroppo del terzo mondo. Perché quando guardate queste scene, queste immagini, questi palazzi completamente crollati, questa erbaccia cresciuta all'inverosimile, questi alberi di fico che ormai hanno raggiunto 4-5 metri d'altezza, c'è un porcile mai visto rispetto al quale l'amministrazione comunale avrebbe il dovere immediatamente di intervenire. Qui deve intervenire la ASL. Io chiedo che l'amministrazione comunale innanzitutto realizzi un'opera di bonifica. Perché questa non è un'area privata, ma è un tratto di strada pubblica. Certo, abbandonata a se stessa, decotta e decaduta, però si tratta di area pubblica. E allora un'amministrazione sana, capace, cosa fa? Visto che i palazzi sono privati, intanto si fa un'ordinanza in danno dei proprietari. Si mette in sicurezza la zona, quindi si fa a proprie spese l'intervento di messa in sicurezza, salvo poi rivalersi sui proprietari. Ma prioritariamente, prima di tutto, si fa una bonifica. Perché qui ci sono ratti, meno male che ci sono i gatti che sono in grado di azzannare i topi, ma qui si rischiano infezioni. Caro Rinaldo Melucci, proprio ti vorrei davanti a me. Questa è la Taranto della rinascita? Tu hai seminato questa rinascita? Ma tu non vivi, tu non giri Taranto, tu sei rinchiuso, tra virgolette, a palazzo di città. Tu forse non sai neanche come si arriva qui. Tu ignori l'esistenza di questo scempio. Ma guardate un po'. Ma cos'è un paese del terzo mondo? Che cos'è? È un Baghdad sotto i bombardamenti, i resti di Beirut bombardata. Non so che cosa c'è, come definirlo. E queste sarebbero condizioni di una città che vuole dirsi civile. Qui, vedete, vi sto facendo vedere la finestra dove abita l'amico che abbiamo ascoltato per pochi secondi fa. Abita una famiglia. È una famiglia che, ripeto, a proprie spese nel proprio piccolo ha cercato di riqualificare l'area. Non può vivere in queste condizioni. Non può trovarsi i topi, gli insetti, la merda in casa. La merda in casa, caro Melucci. E che nessuno si scandalizzi di queste parolacce. Perché questa è merda. Che nessuno si rizzeli. Questa è la Taranto di Rinaldo Melucci. Questo è il borgo antico. Quando Melucci, quando Manzulli, quando Marti parlano di riqualificazione di Taranto, io li prenderei di peso. E li porterei a vivere qui dentro. Per capire il disagio sociale. Per capire i rischi che le persone che abitano qui corrono per la propria salute. Con i bambini. Opportunamente mi ha... Il signore, la signora sopra dice il marito è affetto da una patologia ai polmoni. E ovviamente per non respirare quest'aria malsana, invece di avere un po' di ossigeno, è costretta a barricarsi in casa. Ma stiamo scherzando, Melucci? Stiamo scherzando? Qui farò... Se tu non vuoi muovere il sederido dalla sedia, caro Melucci, e intervenire, io faccio intervenire il Dipartimento di Prevenzione dell'Asda di Taranto. Perché qui si rischia la pubblica incolumità. Si rischia la salute. E penso che non ci sia altro da dire. Chiudiamo con queste immagini. Chiudiamo. Questa è la Taranto della rinascita. Ma stai zitto, Melucci. State zitti, signori dell'amministrazione. E levatevi davanti, quanto prima, per il bene di Taranto. Grazie. 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 Grazie.